Sono i più piccoli ad accumulare maggiori tensioni dopo un terremoto. Per aiutare a superare la paura post-sisma dei bambini delle scuole primarie del comune di Teramo, il Centro Sportivo Italiano Provinciale lancia il progetto Happy School. L'iniziativa prevede attività ludico-motorie a favore di questi ragazzi e si terrà nella palestra Molinari di via Gasberrini a Teramo. Infatti, dopo il sisma del 2009 dell'Aquila, alcuni importanti studi di neuropsichiatria infantile stabilirono che in una situazione post-emergenziale l'attività motoria e sportiva rappresenta uno degli strumenti più efficaci per allentare le tensioni nei bambini. Il CSI ha già un'esperienza legata al post-sisma aquilano, dove ha seguito nei giorni a seguire il sisma l'attività ludico-motoria per oltre 4.000 ragazzi. Abbiamo acquisito la consapevolezza che proprio da studi di neuropsichiatria infantile il gioco e le attività ludico-motorie sono un elemento importantissimo per far distogliere l'attenzione dei ragazzi rispetto alle tensioni accumulate a causa del sisma. Quando questi ragazzi arrivano qui hanno paura, hanno avuto paura del terremoto? Che vi raccontano? Alcuni ovviamente sì, nel dialogare manifestano una loro particolare preoccupazione rispetto all'evento sismico perché risentono anche delle tensioni dei genitori e quant'altro. Quindi quando escono da questa palestra sono molto più tranquilli? Diciamo che il nostro obiettivo è quello di fargli passare delle ore di serenità, di gioia. I nostri operatori ce la mettono tutta per arrivare a questo obiettivo. Le attività ludico-motorie messe in campo dal CSI di Teramo a favore dei bambini delle scuole primarie del Comune di Teramo prevedono un numero massimo di 40 iscritti. Saranno gratuite, gestite da operatori esperti e si potranno fino alla riapertura delle scuole.